art metal laccatura all'acqua per effetti decorativi stile ferro antico per interni ed esterni ideale per metallo legno e muro sul supporto adeguatamente preparato con antiruggine per metallo sottosmalto per legno fondo murale su muro applicazione di art metal a spruzzo diluito al 5 10 per cento circa con acqua con pistola tazza superiore con ugello di diametro 2,5 a bassa pressione distribuire art metal sulla superficie in modo omogeneo ed uniforme mantenendo una distanza di circa 40 centimetri tra l'aerografo il supporto senza caricare troppo il prodotto per evitare colature art metal in alternativa all'applicazione a spruzzo può essere applicato a pennello manufatto in metallo realizzato con art metal e